La delega alla cultura passa nelle mani dell'assessore Simona Rossotti, mentre sicurezza e polizia locale ad Elena Negretti. Questi passaggi più importanti del cambio di incarichi nella giunta Comasca. L'annunciato rimpasto è stato ufficializzato con un decreto firmato dal sindaco di Como, Mario Landrescina. Dopo un anno di mandato, il primo cittadino comasco ha deciso in questo modo di alleggerirsi il carico, cedendo cultura, sicurezza, polizia locale e comunicazione. Quest'ultima finita nelle mani dell'assessore Rossotti, che cede al collega Marco Galli l'ambiente e l'ecologia, settore che si abbina con la delega già in suo possesso a parchi e giardini. Nel balser di delega e le politiche giovanili fino ad oggi di Galli passano ad Amelia Locatelli, già assessore alle politiche educative e formazione. Infine l'assessore Francesco Pettignano ottiene l'edilizia cimiteriale. Restano invariati gli incarichi del vice sindaco Alessandra Locatelli e degli assessori Vincenzo Bella, Adriano Caldara e Marco Butti.